Terra Amara Anticipazione della puntata serale di giovedì 15 febbraio 2024 Lutfie, di ritorno da Bursa, si dirige immediatamente da Zuleia Le dice che deve parlarle di qualcosa di estremamente importante prima che lei sposi Mehmet Le racconta di un episodio accaduto alcuni mesi prima, quando un uomo aveva telefonato affermando che Fecheli era stato ucciso da Kadir Ne aveva poi parlato con Betul, che è un avvocato, dicendole che intendeva indagare sulla morte di Fecheli Kadir aveva saputo immediatamente della situazione, e assieme al fratello l'aveva rapita con Betul Con una pistola puntata alla testa, le avevano intimato di non indagare, minacciando pesanti conseguenze in caso contrario Adesso, con Kadir che ha comprato la villetta, e va app presente, Lutfie è obbligata a rivelarle la verità Zuleia, ignara di tutto, è sconvolta, e uscendo, nota che stanno riportando i mobili di Sherman nella villetta Lutfie le spiega che Kadir è il migliore amico di Mehmet, e il suo socio in affari, e non può non conoscere le sue azioni Suggerisce a Zuleia di riflettere attentamente prima di sposare Mehmet Poi, le racconta la storia del falso filmato che Kadir ha realizzato su Fikret, e con il quale l'ha minacciata di mandarlo in prigione se avesse parlato Sani e i Gulten decidono di tornare subito alla villa per essere presenti al matrimonio, ma lungo la strada, scoppia una gomma del camioncino Scendono per cambiarla, mentre Ciolac e suo figlio sono in macchina Ciolac si lamenta che Sani e gli ha tenuto testa, ma il figlio, che è alla guida, risponde che, anche se li denunciasse alla polizia, non potrebbe toccarli Giungono al luogo dove Sani e i Gulten stanno cambiando la gomma, e distratto, il figlio di Ciolac le investe in pieno Ciolac ordina al figlio di fuggire per evitare problemi, lasciando le due donne stese sull'asfalto Cetin corre alla villa per avvisare Lutfi e Zuleia che Fikret è stato portato via dalla polizia In quel momento, arriva a Cam vestito da sposo, che si avvicina a Zuleia, dicendole che è bellissima, e le offre il bouquet da sposa Tuttavia, Zuleia gli comunica che ha cambiato idea, e non può sposarlo, e non ne vuole parlare Con molta calma, lui esprime il desiderio di ricevere una spiegazione, e di conoscerne il motivo Nel frattempo, il procuratore mostra il video a Fikret, il quale afferma che il filmato è stato manomesso, mostrando la versione opposta degli eventi Fikret racconta dettagliatamente tutto ciò che è accaduto, incluso il momento in cui ha bruciato la sostanza stupefacente nella pianura di Ramalli Propone di condurli sul luogo del rogo per analizzare le ceneri Il procuratore chiede il motivo per cui non ha avvertito la polizia Fikret risponde che non voleva causare problemi a Zuleia, considerando tutto ciò che ha passato, e non pensava che qualcuno potesse incastrarlo Il procuratore, notando la manipolazione del video, decide di inviarlo ad Ankara per farlo esaminare da esperti, dicendo a Fikret che, nel frattempo, lui resterà lì Intanto, Zuleia ribadisce ad Akan che non intende sposarlo, e gli chiede di non metterle pressione, quindi si allontana Lutfi e si avvicina a lui, e gli dice che Zuleia è confusa, chiedendogli di darle tempo Akan chiede se è stato Fikret a confonderla, ma Lutfi e ribatte che Zuleia non è facilmente influenzabile, e sa prendere le sue decisioni Nel frattempo, Sani e Gulten sono ancora riverse sulla strada, finché, finalmente, delle macchine si fermano per soccorrerle Si accorgono che Sani è morta sul colpo, mentre Gulten è ancora viva Lutfi e raggiunge Zuleia nella sua camera, e le comunica che Akan è andato via Zuleia si chiede se sia stata ingiusta con Akan solo perché è il socio di Kadir, sottolineando che ciò non significa necessariamente che sia coinvolto nella morte di Fecheli Lutfi e le dice che non vuole incolparlo, ma si chiede come possa essere socio di un uomo spaventoso e pericoloso come Kadir Poi, le consiglia di decidere da sola cosa è giusto e cosa è sbagliato, ma di farlo con il cervello e non con il cuore, considerando che è una donna con due figli, ed è la signora di Ciocurova La polizia arriva alla villa, e informa Ghaffur che Sani è morta Poi, informa Cetin che Gulten è ferita gravemente Ghaffur, incapace di credere alla notizia, scoppia in un eccesso di sfogo, mentre Rashid cerca di tenerlo Tuttavia, le sue urla risuonano così forti, da attirare l'attenzione di tutti Intanto, Ciolac e il figlio arrivano al loro ristorante Il figlio, temendo il peggio, afferma che, se le due donne sono morte, la sua vita è ormai finita Ciolac ribatte che, al contrario, dovrebbe sperare che siano morte, perché se sono vive parleranno, e lui finirà in prigione a vita Il figlio piagnucola talmente tanto che Ciolac lo schiaffeggia, incitandolo a comportarsi da uomo Poi, ordina a uno dei suoi uomini di portare l'auto a riparare lontano da Ciucurova Nel frattempo, al circolo, dove tutti gli invitati e le autorità aspettano gli sposi, il sindaco chiede spiegazioni a Cadir per il ritardo Ad un certo punto, un ragazzo avvisa che Fikret è stato convocato dalla polizia Poiché il procuratore ha ricevuto una registrazione che mostra il suo coinvolgimento nel contrabbando di sostanze stupefacenti Intanto, Gaffur irrompe disperato in ospedale, seguito da Rashid, Suleya, e Fadik Tutti piangono, e Gaffur entra nella camera mortuaria Quando vede Sani e immobile sul tavolo, piange e la copre con la sua giacca, temendo che possa ancora sentire freddo La bacia e la accarezza, inginocchiandosi, e pregandola di alzarsi e andare via con lui, perché lui non può vivere senza di lei Contemporaneamente, Cetin e Lutfi sono fuori dalla sala operatoria, dove stanno operando Gulten Cetin è sconvolto, e lei cerca di infondergli coraggio Il procuratore è con Fikret, aspettando l'arrivo di Cetin per interrogarlo Tuttavia, un agente lo informa dell'incidente mortale in cui la moglie di Cetin è stata ferita E che lui è atteso sul luogo dell'incidente Fikret ottiene il permesso di andare da Cetin Kadir raggiunge il fratello, e immediatamente inizia a picchiarlo Chiedendo il motivo per cui ha inviato il video al procuratore Vaap afferma che è stata Betul, che lo ha drogato e ha rubato il video Kadir, fuori di sé, gli dice che non è più suo fratello E non si occuperà più di lui, ordinandogli di tornare subito a Smirne Vaap, lungo la strada per la stazione, costringe il ragazzo che lo accompagna a fermarsi E a dire al fratello che è partito con il treno Betul si reca da Kadir Una volta arrivata, lui la minaccia, ma lei non si lascia intimidire Con sicurezza, gli rivela di sapere chi è Akan Gumusoglu E di possedere una sua foto insieme a Demir A questo punto, se si scopre che lui è il socio di Akan, è un uomo morto Kadir minaccia di ucciderla, ma Betul ribatte dicendogli di aver preso le sue precauzioni E se lui la elimina, tutta la verità verrà alla luce Quindi, è nell'interesse di entrambi trovare un accordo Kadir, preoccupato, le chiede cosa vuole Betul risponde senza esitazione che rivuole la sua casa, il suo lavoro, e la loro collaborazione Kadir, allora cede, consegnandole le chiavi della villetta Gaffur esce sconvolto dalla camera mortuaria dove ha visto Sanye Uzun lo raggiunge, lo abbraccia e gli comunica il desiderio di vedere la sua mamma Nello stesso momento, Fikret raggiunge Lutfi e Cetin Abbraccia Cetin, e gli assicura che Gulten starà bene E presto potranno abbracciare il loro bambino Vaap va ad incontrare Cholak, e gli svela di essere il figlio del contrabbandiere Salan E afferma di aver sempre sentito parlare di lui e del suo potere Cholak gli domanda del fratello E Vaap gli dice che Kadir non ha l'intelligenza e il coraggio per agire e appropriarsi dei terreni Cholak risponde che ora è tornato e tutto cambierà E Vaap si mette ai suoi ordini In quel momento arriva la polizia, che informa Cholak di una denuncia contro di lui, e deve seguirli Akhan si confida con Kadir, esprimendo la paura che Zuleya, pur amandolo, abbia annullato il matrimonio per aver scoperto che lui è Akhan Gumuzoglu Ma Kadir replica sostenendo che, in tal caso, la polizia sarebbe già sulle sue tracce Poi, Akhan chiede se aveva una copia del filmato, ma Kadir risponde che non ne era a conoscenza Che è opera di Vaap, e che se lo ha fatto rubare da Betul Akhan lo avverte sul fatto che scopriranno che il video è stato manipolato Cholak viene convocato dal procuratore in seguito a una denuncia presentata da Zuleya Yaman, accusandolo di aver rubato gli agrumi degli Yaman Cholak, inizialmente nega l'accusa, ma poi dichiara che quella terra gli appartiene, e che intende riprendersela In seguito, Cholak, insieme a Vaap, il figlio, e un altro uomo, si lamenta del fatto che Zuleya abbia osato sporgere denuncia contro di lui, avvertendo gli altri che la rovinerà Vaap promette a Cholak che sarà il suo più fedele e feroce soldato, e tutti e quattro brindano alla rovina di Zuleya Il procuratore si reca in ospedale per incontrare Cetin, che è insieme a Fikret e Lutfie Comunica che stanno indagando per scoprire il colpevole dell'incidente, e che interrogeranno Gulten non appena possibile Cetin, disperato, ribatte che Gulten potrebbe non risvegliarsi, e che è disposto a collaborare per scoprire la verità Poi, scoppia a piangere, abbracciato da Fikret, dicendo che non può vivere senza di lei L'operazione di Gulten è giunta al termine Cetin, distrutto, si trova con Gaffur e Fikret dietro il vetro della camera di terapia intensiva, dove Gulten è in coma Pregano insieme sperando nella sua salvezza Arriva anche Zuleya, e Fikret le comunica che al momento non ci sono novità, ed i medici non forniscono dichiarazioni rassicuranti Anche Zuleya è devastata, tanto da respirare a fatica In un gesto di compassione, Fikret decide di portarla fuori dall'ospedale Zuleya esprime la sua incredulità di fronte a tutte queste disgrazie Fikret risponde che il destino sta giocando con le loro vite, portando via le persone che amano di più Poco dopo, rientrano in ospedale, ignari del fatto che Akan li sta osservando Terminano così queste anticipazioni Io sono Desi, e se volete, vi invito a iscrivervi al mio canale, per non perdervi i prossimi video Un abbraccio, e ci sentiamo nei commenti, con i vostri pareri sulla puntata